Io la prima cosa che ho cercato di evidenziare, malgrado la posta in palio, nonostante la posta in palio, l'importanza, ho visto una gara, naturalmente è uno sport di contatto, una massima correttezza, assoluta, uno spot per l'eccellenza, non solo sotto l'aspetto tecnico, ma anche sotto l'aspetto comportamentale. Sì, è stata una bellissima finale condita da tantissimi episodi, con due squadre che non si sono risparmiate anche nel gioco e soprattutto hanno dato tutto, hanno dato tutto quello che c'era e poi diciamo che gli episodi hanno da una parte e dall'altra condizionato un po' tutta la gara e anche alla fine. L'epilogo è stato come quello con Ajax. Infatti è un riferimento che hanno fatto anche altre persone. Questa gara, rispetto anche alle altre finali, alcune finali di playoff dell'anno scorso, di due anni fa, è uno spot per il nostro calcio direttantistico, con due società che sono proprio società direttantistiche vere e proprie, nell'ambito appunto dei valori, dei comportamenti e anche del gioco, perché alla fine si è vista una partita molto molto combattuta e bellissima. E la location è stata quella più adatta, perché è un centro federale che ha bisogno naturalmente di mettersi in mostra, di mettersi in vetrina e questa gara, questo match è andato in onda in diretta, ha aiutato a far divulgare il messaggio del centro federale di Silvi. L'impianto di Silvi, per questo ringraziamo il sindaco Scordella e questa giunta e anche le altre che ci hanno permesso di far vivere appunto al nostro calcio tante finali, come è stata anche la finale di Coppa Italia, bellissima, quella di Coppa Italia di promozione. E' un impianto che si presta, è bellissimo e spero che sia anche il trampolino di lancio e questo impianto per far sì che anche lo sport, il calcio qui a Silvi produca anche altri tipi di investimento nell'ambito appunto di quella promozione turistica e sportiva che oggi è particolarmente in bocca insomma, nell'ambito anche appunto delle finalità che devono perseguire i comuni. Presidente, un ultimo accenno ed è quello tecnico per lei, forse per quello che rappresenta è anche difficile rispondere a una domanda del genere, ma la voglio fare a lei perché vive di calcio da tantissimi anni. La classifica, dalla prima in classifica all'ultima e questa finale play-off e le partite del play-out hanno un po' rappresentato i veri valori delle squadre. E' una classifica che rispecchia non solo la bontà tecnica ma anche la bontà societaria, cioè di quelle squadre e di quelle società che guardano al futuro utilizzando i giovani anche in un certo modo? Sì, sicuramente quest'anno la classifica ha dato dimostrazione di quello che è avvenuto in campo, non ci sono stati altri episodi che hanno condizionato comunque questo campionato bellissimo d'eccellenza. Adesso è l'augurio che domani le nostre consorelle della Serie D ci facciano questo ennesimo regalo, visto che è una situazione anche favorevole, anche se il calcio come la partita di oggi ha dimostrato, ma sconde gli insigli dietro l'angolo, quindi ci facciano questo miracolo di far salvare quelli che si sono già salvate, sia in eccellenza che di promozione, evitando quell'epilogo bruttissimo che ci vedrebbe se non dovesse salvarsi uno o due, fare lo spareggio di promozione per le due che hanno vinto già i play-off e poi andare a condizionare dei meriti già acquisiti da parte di altre società che hanno partecipato ai play-out.